Ciao a tutti, stamattina andiamo a vedere cosa mi è stato inviato dall'origine per la collaborazione. Innanzitutto guardate che bella l'immagine riportata sulla scatola. Parliamo di pasta biologica e biodinamica. All'interno troviamo la brochure con tutti i tipi di formati di pasta, tutte le varietà, la pasta bianca, la pasta senatore capelli, la pasta degli ignomi, gli stessi ignomi che sono riposati sulla scatola, la pasta speciale, la pasta farro, la pasta di kamut, la pasta integrale e la pasta semi integrale. E poi sul retro troviamo tutte le info dell'azienda. Benissimo, ora vi mostro i prodotti che mi sono stati inviati. Allora, il pelo. Sono tagliatelle di grano duro bio con ortica e bietola rossa, un pacco da 500 grammi, naturalmente prodotto made in Italy. Guardate che carino. Qui ci sono tutte le certificazioni. Vi piace moltissimo il packaging, molto curato. Sicuramente qui, tempo di cottura a 7 minuti, la tabella nutrizionale. E qui un pochino di altre informazioni. Poi, il secondo pacco, questo, tagliolini di grano duro bio con zenzero. Come potete vedere, sono molto particolari queste tipologie di pasta che mi sono state inviate. Questo con lo zenzero sinceramente mi interrisisce parecchio. Questa 6 minuti la cottura. Fusilli di grano duro bio con alga spirulina. Guardate com'è scura la pasta. Anche questa mi interrisisce un sacco. La prima volta che la vedo, con la spirulina. Cottura a 7 minuti. Poi, proseguiamo con conchiglie di grano duro bio senatore capelli. Le adoro io le conchiglie nel formato di pasta che adoro. Tra l'altro sono anche piccine. Guardate. Vediamo un po' qua il tempo di cottura. 7 minuti. Tra l'altro è tutta pasta che cuoce abbastanza in fretta. Quindi... Poi... Penne di grano duro bio con curcuma. Buonissime queste col pesce. Immagino già con dei bei gamberi magari. Delle belle vengole. E questo è il tempo di cottura. 7 minuti. Mettiamo qua. Poi, proseguiamo. Ancora due pacchetti. Abbiamo. Queste penne di grano duro bio con peperoncino. Queste qui le adoro Edoardo. Sicuramente perché amante del peperoncino. Anche io. Non fortissimo però... Non piccantissimo diciamo però... Mi piace. Tempo di cottura 7 minuti. E poi... Ancora uno. Ringrazio l'azienda che è stata veramente gentile a mandarmi tutti questi formati, queste varianti di pasta. Musilli di grano duro bio con pomodoro e basilico. Guardate quanto è bella. La pasta tricolore. Io la chiamo. La pasta proprio... Che rappresenta l'Italia. Per i suoi colori. Tempo di cottura 7 minuti. Sono felicissima. Non vedo l'ora di assaggiare tutta questa pasta. Perché per me... A parte quella di peperoncino. E questa... Con pomodoro e basilico. Per me... Se ne ha percappagli naturalmente. Perché... L'ho già provata diverse volte. Però questa con purcuma. E questa soprattutto con spirulina. Sono delle vere e proprie novità. Oggi vi lascio la presentazione. Con tutti i link per i suoi contatti. Ringrazio nuovamente l'azienda. Che è stata molto molto gentile. Naturalmente. E ringrazio voi per l'attenzione. Vi auguro una buona giornata. E a domani. Ciao ciao.